Con l'arrivo del Covid sono state necessarie delle idee innovative, delle idee nuove per fare in modo che i pazienti potessero essere curati e seguiti nonostante la pandemia. Qui al presidio Ciaccio dell'Ellis sono state tante le novità messe in campo per stare sempre vicino al paziente. Intanto si è cercato un po' di ridefinire quello che era un po' il percorso di accesso e tutti i percorsi di cura per i pazienti oncologici e per i pazienti oncoematologici. Devo dire, per quello che il mio ruolo ha un impatto assistenziale minore, però siamo molto interfacciati con il direttore medico, con il dottor Talarico, nell'andare un po' a riguardare quelli che erano stati gli indirizzi che provenivano dal Ministero della Salute, ma anche quelli che erano gli indirizzi che provenivano dalla società scientifica. Devo dire che le società scientifiche, sia per quanto riguarda l'oncologia medica che per quanto riguarda la società italiana di ematologia, si sono subito attrezzate, andando a individuare quelli che potevano essere dei percorsi e quelli che potevano essere anche delle scelte terapeutiche che meglio si adattavano ad una fase in cui bisognava limitare gli accessi. Quindi c'è stato certamente un tentativo, parlo in particolare per quanto riguarda i percorsi oncoematologici, di spostare molte terapie nell'ambito di terapie orali, quindi nell'ambito di terapie biologiche orali e, diciamo, limitare per esempio quello che è stato tutto l'impatto di terapie con alcuni anticorpi monoclonali. Molte delle nostre terapie sono terapie che sono di per sé composite, che sono rappresentate da alcuni farmaci che per esempio si prendono per bocche e anche da alcune terapie infusionali con anticorpi monoclonali. Questi anticorpi monoclonali spesso determinano una grave condizione immunitaria perché parliamo di terapie intelligenti, ma non parliamo di terapie talmente specifiche da andare in effetti a risparmiare alcune cellule del sistema immunitario e quindi il rischio è che si potesse indurre una condizione di immunodepressione ulteriore in questi pazienti quindi con un rischio maggiore di poter contrarre e soprattutto di poter avere una malattia da covid che potesse essere ancora più aggressiva. Quindi intanto quindi abbiamo pensato a, come dire, a rimodulare le terapie naturalmente senza che tutto questo potesse avere alcun impatto negativo su una possibilità di cura efficace ed efficiente dei malati. E poi abbiamo cercato un po' di individuare, diciamo, quelli che potevano essere dei percorsi. Percorsi significa ovviamente, come dire, limitare soprattutto nell'ambito di pazienti che avevano, potevano essere seguiti con una modalità a distanza, diciamo, e quindi che non avevano necessità di un approccio attivo, di una terapia attiva ma soltanto essere controllati, magari perché avevano completato il loro percorso terapeutico ed erano soltanto in osservazione. E quindi ci siamo attivati e abbiamo cercato di farlo in una prima fase con un, come dire, con tutti approcci che non avevano alcuna validazione che significava le telefonate più insistenti, che significava le videotelefonate, significava il WhatsApp. E poi, come dire, abbiamo capito e questo devo dire, da questo punto di vista forse c'è stato un'idea che potesse essere questa struttura, una struttura un po' pilota nell'ambito, diciamo, di quello che era lo scenario regionale, anche con dei percorsi di monitoraggio a distanza che fossero però validati. Quindi questo significa con una metodologia di telemedicina, che telemedicina è un, come dire, quando veniamo di telemedicina si parla di un range assai ampio di modalità di raggiungere il paziente, che come dicevo prima vanno dalla telefonata fino a, come dire, modelli che sono dei modelli che sono stati disegnati e strutturati sulla base dei pazienti e soprattutto di alcuni pazienti. E quali sono questi pazienti? Quelli più fragili, quelli che, come dire, hanno, come dire, che noi definiamo pazienti unfit, quindi pazienti che hanno patologie associate, dei pazienti che bisogna cercare di trattenere in una condizione che è una condizione un tantino di minore esposizione. Questo in una prima fase. Io oggi devo dire che forse gli ospedali sono delle strutture fra le più sicure che noi abbiamo perché intanto il personale è vaccinato, il personale ha assolutamente la capacità di riuscire ad interagire con questi pazienti nel modo migliore e viene effettuato un controllo adeguato nell'ingresso in ospedale e poi soprattutto l'ospedale Ciaccio, essendo un ospedale monospecialistico, è un po' fuori da quella che è tutta la linea dell'emergenza urgenza e quindi qui arrivano pazienti, diciamo, selezionati. Quindi tutto questo ha consentito di creare un filtro assai importante e quindi naturalmente non ci sono stati problemi. Ma l'ultimissima cosa che a me piace dire anche per quello che è stato un po' il mio ruolo in questa fase un po' di pandemia è che grazie un po' alla disponibilità che c'è stata da parte di questa direzione medica c'è stata la possibilità di poter gestire con una modalità assolutamente unica e questo è successo davvero in pochissime regioni d'Italia. Quindi curiosamente la Calabria che è sempre un po' la cenerentola per quanto riguarda la sanità, da questo punto di vista ha dimostrato di poter produrre un modello virtuoso. Cioè i pazienti sono stati vaccinati nello stesso ospedale nel quale essi sono seguiti e questo con una chiamata diretta che veniva addirittura attraverso la segreteria. Quindi abbiamo avuto modo di gestire questi pazienti, di monitorarli e soprattutto abbiamo avuto la possibilità su alcuni sottogruppi di pazienti di andare a verificare quella che era l'efficacia dei vaccini. Perché non dimentichiamo che ci sono alcuni pazienti, soprattutto quelli in cui è più importante l'immunodepressione legata alla malattia in quanto tale, nei quali l'efficacia dei vaccini è minore. Quindi diciamo sono pazienti che hanno quello che noi chiamiamo un tasso di sieroconversione più basso. Quindi sono pazienti che certamente devono essere vaccinati, però noi sappiamo che non tutti si avvantaggiano così come la popolazione normale. E questo ci ha consentito anche, da questo punto di vista, di fare anche qualche passo oltre, perché tutto questo poi si è trasformato anche in un'attività di carattere scientifico che ha consentito anche di produrre a questo Dipartimento dei lavori scientifici che sono stati presentati anche in contesti internazionali con grandissimo apprezzamento. Tutto questo per dire che abbiamo vaccinato, abbiamo vaccinato tutti i pazienti, non tutti si avvantaggiano, ma il passo successivo sarà che probabilmente potremmo andare noi a selezionare nell'ambito di questi pazienti quelli che si possono avvantaggiare di quella che è adesso la nuova frontiera, che sono gli anticorpi monoclonali. Perché oggi noi sappiamo che alcune categorie a rischio che si avvantaggiano in modo limitato dalla procedura vaccinale possono però, diciamo, il percorso può essere completato da questi anticorpi monoclonali che magari somministrati in un'unica somministrazione sottocuoto ogni sei mesi, possono fornire quel completamento che il percorso vaccinale non è in grado di dare. Quindi come vede un... È uno studio in corso questo di vaccino più anticorpi monoclonali? È uno studio in corso, non è uno studio in corso da noi, ma presto però anche AIFA, così come è stato fatto dagli organi regolatori internazionali, per esempio l'FDA, ha dato la possibilità di... diciamo, l'FDA l'ha già dato questa possibilità ai pazienti che sono vaccinati che però non hanno una risposta immunitaria tale da poter avere una protezione adeguata di poter, come dire, accedere a queste terapie innovative. AIFA sono in corso, diciamo, questi percorsi anche di approvazione. Però naturalmente tutto questo passa attraverso un controllo anche da parte, diciamo, di chi segue questi pazienti che deve individuare quali sono realmente i pazienti che si debbano avvantaggiare di queste procedure di secondo livello. Quindi è uno scenario, è uno scenario assai ampio, uno scenario che veramente, come dire, due anni fa quando è irromto in tutti quanti noi il problema del Covid, nessuno poteva immaginare che noi saremmo stati così capaci, io dico tutto il sistema sanitario globalmente, di sviluppare un sistema così complesso, un sistema così di prospettive. Devo dire, oggi questo si è verificato e vorrei sottolineare che probabilmente il modello dei pazienti oncologici e dei pazienti oncoematologici è quello sul quale meglio, come dire, si è sviluppato ogni tipo di procedure, procedure sia per quanto riguarda mantenimento delle cure con controllo del rischio del paziente e, come le ho detto prima, possibilità anche di accedere a cure veramente innovative che consentiranno di mettere al sicuro questi pazienti che poi spesso, curiosamente, sono pazienti di età mediana elevata, sono pazienti che hanno delle comorbidità, quindi sono i veri pazienti fragili che oggi noi abbiamo.